La Regione Toscana ha firmato un accordo per rafforzare la collaborazione con la ProBios di Calenzano. L'azienda è presente in 52 paesi del mondo e da 35 anni promuove la coltivazione di materie prime nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, impegno che intende proseguire in una logica di filiera con le aziende locali. Un secondo accordo è stato invece siglato con l'Agroittica di Piombino, azienda autorizzata dalla Regione da allevare pesce nel golfo di Follonica e con cui è stato avviato un percorso formativo specifico che alla fine ha portato all'assunzione di 12 persone. Questo è stato uno dei primi esperimenti con cui Regione Toscana ha finanziato un percorso formativo con l'impegno dell'azienda ad assumere, quindi un percorso formativo pre-assunzione, calibrato sulle effettive necessità dell'impresa. Il Presidente della Giunta regionale Enrico Rossi ha proposto di presentare a Bruxelles le due aziende e la collaborazione instaurata con la Regione Toscana. Io ho proposto e credo che mi è capitato già di fare altre iniziative nella nostra sede regionale a Bruxelles, invitiamo gli addetti del settore, ci facciamo conoscere e questo naturalmente serve a stabilire per le imprese una serie di relazioni che poi produrranno, se ci sono le condizioni, i loro esiti positivi. Poi andremo a Bruxelles.